Iniziamo a iniziare quest'ultimo dibattito in questa giornata conclusiva del Venice Climate Camp. Abbiamo immaginato questo titolo, guerra, crisi e nuovi scenari globali. Ovviamente saluto e ringrazio tutte le persone presenti e saluto e ringrazio ovviamente il nostro ospite. Farò una breve introduzione. Dunque noi quest'anno come Venice Climate Camp abbiamo scelto di dedicare questi tre giorni che si stanno concludendo soprattutto ai dibattiti, alla formazione, a momenti di studio che abbiamo incentrato su temi diversi, su temi che ci stanno particolarmente a cuore. Il Climate Camp lo sappiamo è ormai giunto alla sua quarta edizione ed è uno spazio politico oltre che ovviamente uno spazio fisico che è partecipato da diverse sensibilità. In particolare lo si vede anche guardandosi intorno da persone giovani, da militanti climatici, da attivisti provenienti da svariate parti d'Italia ed Europa. Dal Venice Climate Camp in questi anni abbiamo provato a portare il nostro contributo al movimento climatico con diverse iniziative che hanno saputo attivare centinaia di persone provenienti per l'appunto da diverse esperienze, da diversi percorsi di lotta. L'abbiamo fatto perché crediamo che un movimento debba tentare con tutte le sue forze, con tutte le sue possibilità di costruire delle sinergie, delle alleanze tra soggetti diversi, studenti, lavoratori, sindacati, ricercatori, giovani, attivisti, climatici o meno, associazioni, comitati, insomma è necessario ricercare momenti unitari appunto pur avendo ognuno le proprie differenze, le proprie peculiarità. Lo abbiamo sempre scritto, sempre detto, per noi movimento climatico, questo è importante, non ha nulla a che vedere con un'idea un po' anche ormai stantia di ambientalismo. Credo che questa differenza sia anche ben rappresentata da un tema che abbiamo discusso più volte in questi giorni. Natura e società non sono due cose distinte o divise e non devono essere ritenute tali. Errori in cui appunto l'ambientalismo di cui dicevo prima troppo spesso è in corso. L'uomo non è scindibile dalla natura, dal non umano e proprio per questo non dobbiamo trattare le questioni legate all'ambiente diciamo così come qualcosa di diverso, di distaccato, di lontano da temi come il lavoro, come la formazione, come la casa. Tanto meno possiamo ritannarlo distaccato da un evento come la guerra. Ora, per quale motivo abbiamo sentito così forte la necessità di affrontare il tema della guerra? Preliminalmente credo sia giusto anche se forse non serve in qualche modo ricordare come in questo paese, appunto in particolare per noi giovani, è sempre più difficile trovare una seria, vera, opposizione degna di questo nome allo stato di cose presenti alla realtà che viviamo. Si pensi in primo luogo ai partiti o ai sindacati che hanno tradito un loro ruolo fondamentale, importantissimo, cioè quello anche di saper seguire i movimenti sociali, le istanze sociali o quanto meno di essere in grado di saper interpretare queste istanze. Anche per questo credo in fondo la guerra con tutto ciò che rappresenta, che ne deriva, ha mandato in crisi diversi attori politici. Ecco, su questo diciamocelo anche con onestà e con sincerità, tra questi attori politici diversi ci sono anche diverse anime del movimento climatico. Pensiamo ad esempio a Fridays for Future. Fridays for Future da un lato non ha saputo elaborare una propria posizione chiara e univoca sul tema della guerra, in particolare sul conflitto che è esploso in Ucraina e dall'altra ha visto la propria leader Greta Thunberg andare a stringere la mano a Zelensky e una stretta di mano che in qualche modo era tranquillamente evitabile. Ecco, noi invece siamo convintamente contro la guerra, la riteniamo la peggiore ingiustizia che l'uomo possa perpetuare. Tutte le guerre, lo sappiamo, ricadono sulla pelle di persone innocenti, sugli ultimi che vengono spediti al massacro, su chi subisce violenze peggiori, per gli interessi poi di che cosa? O di grandi forze economiche o di grandi o forse miseri a seconda del punto di vista interessi politici. Ecco, nessuna guerra è combattuta ad esempio per gli interessi di noi che siamo qui, per le nostre vite e per i nostri bisogni. Ecco, da questo punto di vista la guerra in Ucraina ovviamente ha diversi elementi che ci hanno in qualche modo anche attanagliato e che ci interrogano profondamente, non solo per la vicinanza geografica. È evidente ad esempio dal nostro punto di vista come questa guerra sia combattuta anche per la gestione delle fonti fossili e in generale per il controllo la gestione delle tante risorse che sempre più scarseggiano sul nostro pianeta. Non solo, quello che è successo, quello che sta succedendo con questo conflitto dimostra perfettamente come la guerra può essere usata per determinare scelte politiche che vanno, che i singoli stati ad esempio prendono, che vanno ben oltre la questione militare, la questione bellica. Questa guerra per esempio ha determinato il fatto che siano stati limitati i rifornimenti di gas dalla Russia, che è un grande esportatore. Ecco, questo ha portato diversi paesi occidentali, ma non solo, ad avviare un processo di ricarbonizzazione. E questo è tremendo, perché succede esattamente quando invece l'agenda politica europea quantomeno cominciava a parlare di riconversione energetica. Soprattutto, tra l'altro, succede in un momento comunque di una crisi climatica tremenda e profondissima che ben conosciamo e che abbiamo discusso. Si ritorna al carbone, nel nostro paese addirittura si ritorna a parlare della riapertura di centrali nucleari. Ecco, di fronte a tutto questo siamo convinti che il movimento climatico non può non avere una propria posizione chiara sulla guerra. Dobbiamo, con urgenza, ricostruire un punto di vista sul tema. Come tra l'altro i movimenti hanno sempre saputo fare, hanno sempre cercato quantomeno di fare. Penso, ne parlavamo anche prima, penso ai tempi della guerra in Iraq, quando milioni di persone sono scese in piazza per protestare contro i bombardamenti. Penso alla guerra in Kosovo, dove tra l'altro i movimenti hanno saputo costruire non solo grandi piazze, ma anche importanti momenti di conflittualità. In quell'occasione tra chi animava la protesta nacque l'idea di utilizzare gli scudi, ripresa da quanto visto lontano, dall'altra parte dell'oceano a Siato, dove questa idea che tra l'altro fu fondamentale per scrivere pagine importanti della stagione no global che conosciamo. Ebbene, non possiamo, guardando per esempio a questo passato, non possiamo arrenderci, io credo, all'idea che ora invece non ci sia quasi nessuna opposizione alla guerra. A una guerra che tra l'altro si svolge alle porte di un'Unione Europea sempre più sgangherata, non possiamo accettare l'appiattimento, non possiamo accettare l'annichilimento davanti al rischio concreto di quella che in qualche modo possiamo anche vedere come una guerra civile permanente. Non possiamo, credo, accettare la retorica della guerra giusta. Per provare a superare tutto questo crediamo sia fondamentale comprendere in maniera profonda le tante ripercussioni appunto che la guerra può avere in diversi ambiti della nostra società. L'idea a questo proposito è quella di provare a costruire un discorso il più possibile a partire da oggi limpido, preciso, capace di unire le diverse anime di chi come noi ancora vede nella guerra qualcosa di tremendo, un problema, qualcosa a cui bisogna opporsi con forza. Siamo convinti di non essere soli in questo. Tra l'altro con questo spirito parteciperemo e invitiamo a partecipare alla manifestazione Fermiamo l'Escalation che è un corteo contro la guerra e contro le basi militari che si terrà a Pisa il 21 ottobre, ma al di là di questo quello che più ci interessa è ricostruire un nostro punto di vista sul tema della guerra tramite un dialogo con diverse persone che speriamo possano offrire spunti, riflessioni importanti. Oggi iniziamo con questo dialogo che sarà solo il primo di una lunga serie, ce n'è già in calendario un secondo il 17 settembre alla Caracolla all'Hall Jackson di Vicenza con Alex Zanotelli. Ecco ma iniziamo da te anche per quello che in questi mesi hai detto, hai scritto, abbiamo letto le tue parole, abbiamo ascoltato le tue parole con grande interesse. I motivi di questo interesse sono tanti, uno spicca anche un po' tra gli altri, cioè il fatto che sul tema della guerra in questi mesi tu sei stato una voce fuori dal coro, perché per il resto abbiamo un coro bellico, no? Potremmo dire questa retorica della guerra è sempre più diffusa. Ecco questo da una parte ci preoccupa perché davanti a un'escalation terribile come questa pensare di vedere così poche voci importanti contro la guerra un po' ci spaventa, ecco. Dall'altra però appunto a questa voce riteniamo sia importante ascoltarla e quindi anche oggi ti ascoltiamo volentieri. Grazie!